Ciao Blenderisti, oggi voglio parlare del Proportional Editing. È un tool che permette di muovere uno o più vertici con un trascinamento degli altri vertici che sono nelle vicinanze. Per abilitare il Proportional Editing basta entrare in Edit Mode sull'oggetto, selezionare uno o più punti e andare ad abilitare il Proportional Editing, questa icona che è qui sopra. Premendo G per muovere, R per ruotare o S per scalare compare questo cerchio di influenza. Questo cerchio di influenza può essere settato tramite la rotella del mouse, quindi posso aumentare o diminuire questa influenza in base alle mie preferenze, dopodiché muovendo i vertici che ho selezionato posso muovere anche quelli che sono, in maniera proporzionale, quelli che sono i vertici adiecenti, i vertici selezionati. Quindi aumentando l'influenza o diminuendo l'influenza avrò il risultato che ricercavo. Chiaramente posso muovere parametricamente tramite i numeri, quindi aggiungendo a G posso aggiungere determinati numeri, positivi o negativi per andare avanti o indietro, eccetera. Stesso discorso per la rotazione che è in gradi e per scalare, che chiaramente è sempre in numerico a livello metrico, dipende poi da come avete settato Blender. Chiaramente questo sistema, come detto, funziona anche utilizzando R, quindi posso aumentare la mia influenza, sempre con la rotellina del mouse, quindi aumentare il grado di influenza che questi due vertici che ho selezionato avranno con i vertici vicini. Per il resto sperimentate e vedrete che è un tool molto utile. Ciao!